Grazie a tutti. E rimango sempre positivamente colpita dal fatto di quanto questo GIS sia una disciplina interdisciplinare, cioè di quanto può unire dati, esperienze, mondi completamente diversi. E questa è proprio la riprova, proprio la conferma oggi abbiamo con tutti questi lavori che avete fatto e che ho letto, abbiamo proprio la conferma di questo strumento potentissimo che tutti adoperiamo. Quindi, senza più indugiare, darei la parola al dottor Maffeis di Terraria che ci presenterà un lavoro intitolato CO20 e la pianificazione energetica... Ah no, scusate, devo fare delle comunicazioni di servizio. La prima è che se tutti gli oratori hanno firmato la liberatoria per essere ripresi e l'altra è a tutti coloro che vogliono fare delle domande di aspettare il microfono. No, scusate, allora ridico il titolo CO20 e la pianificazione energetica. Prego. Grazie, Cermen. Allora, lì... Oh, scusate. Dunque, l'ambito nel quale si muove, innanzitutto, CO20, che cos'è? CO20 è un'applicazione web finalizzata a supportare le amministrazioni pubbliche interessate nell'ambito della pianificazione energetica. che in particolare è stato sviluppato sull'onda del tema del patto dei sindaci e quindi accompagna un'amministrazione comunale in primo luogo nel processo di costruzione di quello che viene chiamato il PAES, ovvero il piano di azione per l'energia sostenibile e lo accompagna nella fase di progettazione degli interventi, nella fase di definizione del piano e poi successivamente nella fase di monitoraggio. abbiamo ritenuto di presentare questo lavoro nell'ambito di questa conferenza proprio per le possibili connessioni che ci sono anche in un ambito come quello prettamente di bilancio, quindi teoricamente più tabellare grafico. Abbiamo cercato di immaginare, visto che come società lavoriamo molto nell'ambito delle applicazioni geografiche, abbiamo cercato di immaginare quali possano essere gli sviluppi in ambito territoriale di uno strumento quale il piano energetico comunale. e quindi oggi cercherò di, nel tempo breve, a mia disposizione di spiegarvi quello che è stato implementato e quello che vorremmo implementare. Quindi è sia una presentazione di ciò che è stato fatto, sia una presentazione della prospettiva che abbiamo intenzione di sviluppare nell'ambito dei web GIS, e trattandosi infatti di un applicativo web. Di fatto questa è la struttura dell'applicativo, quindi lo strumento parte da tutta una serie di banche dati che sono a disposizione a livello regionale e nazionale, quindi a seconda del contesto territoriale nel quale ci troviamo, nel contesto in cui non ci sono informazioni specifiche relativamente alle banche dati energetiche ed emissive, si utilizza il database di Ispra, quindi il database delle emissioni nazionali note a livello, con dettaglio provinciale e con cadenza quinquennale. In altre regioni sono a disposizione degli inventari regionali come Inemar, che è utilizzato da sette regioni, in altri casi come quello Lombardo da cui siamo partiti, esiste un sistema informativo regionale che è Sirena, che mette a disposizione delle banche dati, in quel caso proprio energetiche. Quindi, diciamo, da queste banche dati che contengono informazioni o direttamente connesse con l'ambito emissivo, l'ambito energetico o indirettamente connesse, quindi i consumi energetici, come è noto, sono legati alla crescita della popolazione, alla crescita degli addetti, alla presenza di trasporti e quindi esistono banche dati, come vedete qua evocate, ISTAT piuttosto che ACI, che mettono a disposizione già dati con risoluzione spaziale comunale. Quindi, attraverso procedure di disaggregazione e integrazione, il sistema mette a disposizione dell'amministrazione comunale un primo bilancio tentativo energetico emissivo. Questo bilancio, diciamo, top down, quindi con operazioni tipicamente di disaggregazione spaziale, viene poi incrociato con le informazioni che un'amministrazione comunale ha a disposizione a livello locale, quindi dai consumi degli edifici pubblici alla presenza di veicoli nel territorio, di un trasporto pubblico. L'incrocio consente, diciamo top down e bottom up, consente di arrivare a un bilancio energetico emissivo e quindi quello che viene definito la baseline, il bay, quindi l'inventario di emissioni di riferimento a partire dal quale il Comune deve individuare le politiche per ridurre nel 20% le emissioni rispetto all'anno di riferimento che tipicamente è il 2005, deve individuare quali azioni intraprenderà per, come tipicamente i piani energetici, quali azioni intraprenderà per ottenere una riduzione di almeno il 20% delle emissioni a 2020. Si rievoca a livello locale quello che è il famoso pacchetto energia 2020-20, quindi di riduzione del 20% delle emissioni e dei consumi e di produzione da fonti rinnovabili del 20% dei consumi al 2020. Questo viene replicato a livello comunale. Quali sono le prime? Qua vediamo una prima interazione con gli strumenti di WebGIS, poi lo vedremo spero in diretta facendolo vedere attraverso l'accesso al sistema web. Il primo elemento importante è la collocazione dell'edificio geografica perché appunto la georeferenzazione dei consumi consente poi a livello di progettazione o di reti di teleriscaldamento, come vedremo nell'intervento che vi farà il mio collega, o nel concetto di smart cities, cioè di collegamento tra domanda e offerta, è importante chiaramente la distribuzione della domanda e dell'offerta, quindi la georeferenzazione dei consumi è utile in questo. Oltretutto strumenti gratuiti di quali Google Maps ci mettono a disposizione, come vedete qua attraverso Street View, la possibilità di vedere la facciata di un edificio. È chiaro che non è possibile fare un odite energetico senza andare a fare un sopralluogo, però quantomeno senza nemmeno muoversi dalla propria scrivania è possibile vedere e capire con che tipologia di edificio abbiamo a che fare. Andrei veloce perché questo ve lo faccio vedere sul web. Il secondo aspetto, quindi un primo aspetto di importanza del GIS è in ingresso, un secondo aspetto importante è l'aspetto di in uscita, cioè queste informazioni che ci consentono di valutare i consumi a livello comunale. Quando abbiamo a che fare con strutture di supporto, cioè enti sovralocali come province, comunità montane che portano avanti politiche energetiche nel proprio territorio e quindi cercano di collettare le informazioni dai territori locali, uno strumento web come Cioventi mette a disposizione una versione ad hoc per le strutture di supporto, qua vedete una schermata dove chiamiamola provincia, la comunità montana può vedere i consumi per singolo comune e quindi individuare la possibilità di politiche territoriali a più ampia scala. Tendenzialmente se vogliamo ragionare sulla pianificazione delle fonti rinnovabili, quali è la biomassa, ragionare una scala di bacino e di nuovo vedremo poi una presentazione successivamente, è importante vedere consumi e quindi domanda e offerte, in questo caso in termini di biomassa, su una scala più ampia di quella del singolo comune. Qua rivediamolo in termini di output, l'importanza di avere la giuriferenzazione della domanda, in questo caso degli edifici pubblici, che mi consente ad esempio la possibilità di vedere se la domanda di energia concentrata è distribuita, se è pensabile immaginare una rete di teleriscaldamento che connetta questi consumi, direi che vi rubo ancora accidenti, è già aperto, vi rubo ancora due minuti per farvi vedere come funziona, quindi devo confermare, ok. Quindi sostanzialmente un comune si connette a questo applicativo con la sua username e con la sua password e quindi ha a disposizione le informazioni che vi dicevo prima, quindi ha il suo bilancio, in questo caso il suo bilancio emissivo, può valutare il bilancio in termini procapiti o in termini assoluti, può vedere il peso dei vari settori, ad esempio può andare a vedere quanto contano gli edifici pubblici e qua vedete il peso dei consumi degli edifici pubblici rispetto al totale, può andare a vedere per i propri edifici pubblici come sono distribuiti i consumi in termini di vettori e quindi vedere, non so, che ho consumi di gas prevalenti, i consumi residuali di gasolio e poi una parte di energia elettrica. Vi faccio vedere la parte GIS, qua il comune ha alla disposizione delle maschere per poter caricare i dati di consumi dei propri singoli edifici, può andare ad un'anda grafica e quindi come dicevo prima, vedere il palazzo comunale, avere la georeferenziazione, avere la facciata in maniera molto semplice e molto agevole e quindi avere un'informazione geografica del dato. Non ho tempo per farvi vedere la parte relativa alla struttura di supporto che vede queste informazioni, diciamo che qua ovviamente essendo il singolo comune, in questo caso il comune di Treviglio che è un comune in provincia di Bergamo, i 30.000 abitanti, ha la possibilità di vedere il totale dei comuni del proprio territorio, quindi questa stessa torta per la provincia di Bergamo e vedere la stessa informazione restituita su mappa. Giusto per farvi vedere per completezza il percorso, qua vedete quali sono, questa è la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo del 20%, vedete il comune di Treviglio deve raggiungere un obiettivo di riduzione di 26.000 tonnellate di CO2 e con le azioni che sono state messe in campo, che sono divise per vettori, raggiunge il 100 erotti per cento, infatti sono 34.000 tonnellate e qua è possibile vedere il dettaglio delle singole azioni che sono state messe in campo e poi valutarne in maniera a prioristica, quindi ex ante, poi nel corso del monitoraggio del sistema vedere man mano gli anni, qua voi obiettivi verranno raggiunti o meno. Direi che vi è, spero di avervi dato l'idea. Assolutamente, non assolutamente tranquillo, anzi direi che poiché manca una, anzi chiedo a questo punto se c'è qualcuno di Candurra o De Paoli, ecco quindi questo significa che manca una presentazione, cioè non abbiamo oratori per questa presentazione, quindi tutti voi ci guadagnate in minuti per poter allungare leggermente la vostra presentazione. Qualcuno ha delle domande da rivolgere al dottor Maffeis? In questo caso dobbiamo aspettare comunque il microfono, nessuno deve fare domande, io ce l'ho una bella domanda, cioè volevo sapere i dati dove voi avete reperito tutto questo, insomma questa bella messe di dati che per noi che lavoriamo in questi campi veramente sappiamo che è un lavoro molto pesante il recupero dei dati. Prego. Allora la domanda è assolutamente centrata perché è chiaro che questi strumenti sono molto utili nel momento in cui le informazioni sono a disposizione, altrimenti sono delle scatole molto belle ma vuote. Diciamo il Cioventi si base su due possibili alimentazioni delle informazioni, uno diciamo top down, nel caso di Regione Lombardia c'è Sirena che è il sistema informativo regionale energia ambiente che mette a disposizione per ogni comune la domanda di energia, quindi questo dato è il primo dato da cui parte lo strumento, poi ovviamente trattandosi di uno strumento che ragiona una logica top down possono esserci chiaramente degli errori nel processo di disaggregazione, infatti lo strumento consente all'amministrazione comunale poi di correggere il tiro chiedendo i dati, non so, gas naturale, esiste il distributore che gestisce la rete cittadina che chiaramente ha a disposizione esattamente quant'è la quantità di gas naturale vettoriato, diciamo i due vettori, energia elettrica e gas naturale che sono vettoriati attraverso reti, esistono i gestori della rete che appunto per, nel caso dell'energia elettrica nel 90% del territorio regionale è in distribuzione, la parte di gas naturale è vettoriata da vettori, quindi in quel caso il comune può caricare il dato noto con più certezza a quel punto dal gestore delle due reti. Altri vettori che non sono vettoriati come biomassa piuttosto che il gasolio o la benzina si utilizzano altre banche date, ad esempio per i prodotti petroliferi c'è il bollettino petrolifero che però mette a disposizione i dati a livello provinciale, il venduto a livello provinciale. E' questa la cosa appunto perché diciamo possiamo avere un set di dati magari a livello comunale e magari non tutti i comuni ce l'hanno, poi possiamo avere un altro set di dati a livello provinciale e così via, non solo, ma poi avremo delle regioni più virtuose rispetto ad altre, suppongo che la regione Lombardia sia una tra le più virtuose perché da quello che mi state facendo vedere, da quello che ho visto anch'io collegandomi, scrivendomi nel vostro sito, capisco questo. Un'altra domandina ci avrei, questi dati che lei mi ha detto che appunto si possono caricare, utenti eccetera eccetera, si possono caricare anche tramite tabelle Excel, cioè io do l'impasto delle tabelle Excel e automaticamente il sistema prende in gestione i dati. Sì, diciamo lo strumento di upload, vedete i consumi e la produzione sono caricabili attraverso dei file Excel e diciamo l'informazione può essere addirittura, il comune ovviamente ha anche l'informazione per singolo edificio perché banalmente la bolletta mette a disposizione, quindi è una granularità davvero molto differente, ci sono informazioni che sono note a livello regionale o provinciale, altre a livello comunale, altre a livello di singolo edificio perché poi la bolletta consente di avere il consumo elettrico e il consumo di gas naturale o di gasolio per singolo edificio, quindi è un mix tra il tentativo è quello di cercare di omogeneizzarle per poter fare poi delle politiche integrate. Speriamo, questo è il nostro scopo. Grazie. Passiamo direttamente al dottor Serravalli dell'Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Discipline Storiche, Antropologiche e Geografiche che ci presenterà un lavoro che si intitola geostatistica per le rinnovabili, vocazione territoriale del minieolico in Veneto. Buongiorno a tutti, prima quando la dottoressa Caiaffa presentava la sessione parlava proprio di interdisciplinarietà, è un po' il tentativo che noi abbiamo cercato di fare, nel senso che l'approccio che noi abbiamo nell'utilizzo degli strumenti, degli sistemi informativi geografici, è proprio come strumenti a supporto delle decisioni, quindi come strumenti di analisi particolari. Nel caso specifico è proprio uno strumento per gestire una forma di conoscenza, per comprendere sempre di più il territorio, per cui di fatto le applicazioni sono veramente limitate all'immaginazione che noi abbiamo e alla fantasia che noi possiamo mettere in campo come persone. Il caso specifico che io voglio presentare si inserisce in un progetto un po' più ampio di analisi sulle vocazioni territoriali a quello che è la green economy in generale, cioè le potenzialità derivanti dal territorio e l'individuazione di eventuali distretti naturali particolarmente evocati all'utilizzo di mix energetici rinnovabili. Nasce fondamentalmente da un'idea proprio di basilare di comprensione portata avanti da un gruppo consigliare della Regione Veneto, il gruppo consigliare Bortolussi Presidente, che ha richiesto a diversi soggetti di lavorare insieme per definire dei metodi e dei modelli anche abbastanza speditivi per comprendere le vocazioni territoriali sul profilo delle fonti energetiche. L'altro discorso che va in premessa che è importante e quindi quello che io vado a presentare è una branca che è quella specifica dell'inmatching, di incroce, di elaborazioni di dati volte al mini olico in particolare. Però il progetto è stato più ampio e quindi con metodologie chiaramente diverse ha affrontato le diverse fonti energetiche rinnovabili per poi vederle poi mixate e vedere i potenziali distretti e gli eventuali mix energetici. L'altro aspetto fondamentale è che alla base di questo tentativo fondamentalmente è quello di mettere a valore aggiunto del sistema basi dati informativi che esistono. Quindi quello che l'output che viene generato fondamentalmente è uno strumento di supporto alle decisioni a livello di programmazione regionale. Questo intende essere, non è certamente uno strumento esecutivo perché non sono stati fatti monitoraggi o analisi specifiche sui posti, anche perché i costi ovviamente sono estremamente ampi parlando di un territorio così vasto. Questo però ha consentito di vedere quanta disponibilità anche informativa c'è e come questa poi se aggregata, se riutilizzata, se adeguatamente interscambiata anche fra gli enti può generare sicuramente valore. L'altro aspetto specifico un po' del lavoro è il fatto che quando noi parliamo di impianti e prendiamo ad esempio il contesto appunto dell'eolico e del mini-eolico, molto spesso si parla di, è vista quasi a livello di territorialista come un'interferenza anche a livello, un impedimento a livello di paesaggio. Quando è anche vero che però molti paesaggi storici conosciuti hanno sempre e avuto, si sono sempre confrontati, l'azione dell'uomo si è sempre confrontata con, in un certo modo, la realizzazione di opere energetiche. È chiaro che c'è la facile correlazione fra pale eolica, mulino a vento, ma anche ad esempio tutto quello che riguarda l'idrico in generale, per cui abbiamo testimonianze in diversi paesi o dalla letteratura o dall'arte, penso, paesaggi di Rembrandt, dove i famosi mulini o le pale costituivano e costituiscono un elemento profondamente integrato e peculiare che forma il paesaggio. Detto questo, il lavoro fondamentalmente, come dicevo, è partito dall'individuazione e dalla geocodifica di fonti e dati e basi dati esistenti. In particolare, nel caso specifico di questo settore di analisi, abbiamo preso in considerazione le reti di monitoraggio dell'ARPAF che sono disponibili in maniera pubblica e che sono sia in serie storica, sia anche con dati diciamo real time fino a 6-7 mesi di storicità, per cui è anche possibile, come abbiamo cercato di fare, di ricalcolare le variazioni. Mi spiego meglio. Molti di queste fonti derivano da finalità diverse. Nel tempo sono state acquisite tantissimi sensori centraline, volte prevalentemente al monitoraggio della qualità dell'aria, per capirci, ma che hanno tra le dotazioni, ad esempio, anemometri o altri strumenti, appunto, per la rilevazione e la misurazione anche del vento. Chiaramente più o meno precisi, più o meno distribuita, è su tutto il territorio nazionale, per cui riguarda tutte le regioni, per cui può costituire sicuramente un elemento importante per avere delle macroanalisi. L'altro aspetto specifico, legato al mineolico, è che mentre anni fa è stato fatto dal Cesi un atlante legato all'eolico, relativamente al mineolico non c'è nulla. Questo anche per ragioni evidenti, nel senso che, a parte il discorso della programmazione territoriale, il mineolico si scontra con anche delle caratterizzazioni che possono incidere in maniera pesante, pensiamo a un urbano, a un edificato, eccetera, che possono anche variare sensibilmente, ad esempio il vento medio e quindi spostare, per un discorso eventualmente di implementazione, quindi di dare esecuzione, installazione a un impianto, a una pala, eccetera, spostare anche in maniera determinante, un 20, un 30%, il rendimento stesso della pala. Per cui è sicuramente un tema delicato. Quindi noi, diciamo, il tentativo è quello di dire mettiamo a fattore sistema la disponibilità di dati che ci sono e da questi cerchiamo di ristringere quantomeno gli ambiti e valorizzare gli ambiti territoriali che, dall'analisi, evidenziano di avere un potenziale maggiore rispetto ad altri ambiti, quindi circoscrivere a livello territoriale gli ambiti nel quale è più favorevole un'installazione rispetto ad altri, senza ovviamente precludere o sostituire quello che è un'analisi specifica di dettaglio derivante dal monitoraggio. Questo ha portato anche, chiaramente, a un confronto con i dati del CSI e quindi anche a una validazione di quanto abbiamo cercato di esprimere. Il primo livello che abbiamo affrontato è stato quello di mappare tutte le centraline di monitoraggio che sono presenti e che forniscono indicazioni sui venti medi a livello storico, dal 2004 al 2008 ad altezza generalmente di 10 metri, quindi a un'altezza estremamente bassa. Oggigiorno si parla di impianti, ci sono già aziende che fanno aquiloni, che producono energia per andare in alta quota e a centinaia di metri di altezza. Qui invece stiamo parlando di un contesto decisamente più urbano, più integrato anche a un eventuale sviluppo urbano ed edilizio. Poi ci siamo posti il problema che il discorso dei venti medi e dell'era afico, comunque anche lo stesso intervallo temporale 2004-2008 poteva essere un po' creare un po' qualche errore, anche dal fatto che ultimamente abbiamo visto anche il clima decisamente si è modificato. E quindi abbiamo cercato di affiancare a questi dati tutta una serie di altri elementi che venivano elaborati e quotidianamente riversati su un sistema pubblico da parte dell'ARPA accessibile e dal 26 agosto al 24 ottobre 2011 abbiamo acquisito questi dati, queste informazioni in maniera puntuale e specifica per cui in maniera da allineare quasi a livello territoriale e integrare queste due fonti informative. Ora, l'approccio che è stato fatto è stato non quello tanto di dover dimostrare una bontà o una intensità di vento tale per installare impianti, ma abbiamo cercato di prendere in considerazione tutti gli elementi cautelativi proprio e riduttivi nel cercare di abbassare il più possibile il potenziale che poi dopo veniva dall'interpolazione di questi oggetti. Anche lo stesso periodo temporale è un periodo che generalmente non è dal agosto, settembre, ottobre, non è il periodo massimo anche di intensità di vento. Quindi questi elementi vanno un po' a mettere in gioco alcuni fattori, diciamo, tendenti a ridurre gli impatti derivanti dall'elaborazione. Quindi ha un approccio molto cautelativo. attraverso l'interpolazione di questi elementi noi abbiamo incominciato a togliere quelle che potevano essere fenomeni di disturbo che falsavano le medie, cioè tutto quello che era sopra una certa quota, sopra ad esempio avevamo delle centraline che erano a 1010 metri, è chiaro che è una situazione morfologicamente diversa e anche a volte più favorevole rispetto ad altre, però questo valore qui andava a modificare la media, a falsare in un certo senso la media. A noi interessava prevalentemente lavorare e capire il mineolico nei sistemi urbani, quindi nella pianura veneta. Quindi abbiamo incominciato a eliminare dall'elaborazione tutto quello che era sopra una certa quota o che aveva dei valori più alti che potevano falsare il discorso. A questo abbiamo adottato metodi molto tradizionali di interpolazione che sfruttano le regole proprio di base, che sono la base proprio geografica di prossimità, per cui trasformando quello che era un discorso di dato puntuale in un discorso di tipo areale superficiale e quindi vedere come il fenomeno poteva essere più o meno distribuito secondo la regola che ormai tutti conosciamo che più sono vicino al punto di cui ho il dato, più è verosimile che, a parte i condizionamenti esterni, il mio valore sia prossimo al dato su cui ho la misura. Abbiamo preso in considerazione la morfologia del terreno, quindi la tridimensionalità del terreno e su questo è stato fatto un lavoro, credo, interessante nell'ambito della classificazione, cioè dei range, nel senso che una volta che siamo arrivati a un livello di distribuzione areale dei 20, il lavoro di classificazione degli intervalli, dei range, ha permesso di evidenziare alcune aree più vocate secondo i dati che venivano restituiti rispetto ad altre e quindi andare a individuare delle aree, ad esempio dei corridoi o delle aree potenzialmente sicuramente migliori. Questo cosa vuol dire? Uno vuol dire che ci sono evidenti aree che hanno un potenziale sicuramente maggiore di altre, già qui lo vediamo dai colori. L'altro discorso è quello per cui questo approccio è stato un po' cercato di essere condiviso anche con le associazioni dell'energia, ad esempio ANEV piuttosto che, è quello di affinare sempre più il modello in maniera da anche poter avere un ritorno di rendimento dagli impianti. L'altro aspetto che sarebbe molto interessante su questo, abbiamo segnalato anche la cosa tramite l'ANEV anche a livello ministeriale, era quello di dire cerchiamo di sfruttare questa potenzialità che noi abbiamo dei sensori sparsi sul territorio e che nascono per determinate finalità ben specifiche ma che hanno un potenziale anche su altre cose. Questo è un po' il percorso. Grazie. Ci sono delle domande? Qualcuno deve fare qualche domanda? Ingegner Pollino, il microfono. C'è la ragazza? Mi ha presentato la collega, Maurizio Pollino dell'Enea. La domanda era anche una curiosità. L'ultima mappa che abbiamo visto riguarda l'intensità sostanzialmente del fenomeno ventoso. Per quanto riguarda invece altri fattori che potrebbero essere utili in questo discorso di pianificazione e di individuazione dei siti leggibili per l'installazione di mini-eolico. Avete pure pensato di tenere conto delle direzioni dei venti prevalenti, della frequenza dei fenomeni ventosi e come e poi l'altro dubbio, forse entriamo un po' troppo nello specifico. Riguardando anche le diapositive precedenti si parlava pure della localizzazione in aree di pianura dove ci sono insediamenti urbani e industriali. Lavorando su quote di installazione sotto i 10 metri la presenza per esempio di capannoni, di strutture industriali potrebbe essere rilevante. Quindi l'utilizzo di modelli 3D più accurati potrebbe essere uno sviluppo come suggerimento per il lavoro futuro. L'ultima parte era un suggerimento, la prima invece era una curiosità. Guardi, quando si parla proprio di interdisciplinarietà dell'utilizzo di questi sistemi, lo stesso dato, quindi non è che fonte medesima, lo stesso dato nella stessa zona, noi l'abbiamo utilizzato in un progetto di ricerca epidemiologica per l'ASM in età pediatrica nell'area di Verona, perché queste stazioni qui che nascono per altre finalità di fatto hanno anche l'orientamento, la direzione del vento, quindi registrano anche questi fenomeni qui. Nel caso specifico nostro noi non l'abbiamo preso, abbiamo preso il punto senza dare direzioni. Scendendo nel dettaglio come abbiamo fatto nel caso di un altro progetto su Verona, in quel caso lì il dato dava proprio degli elementi proprio di direzione dei venti. Anche di simulazione, perché abbiamo tecnologici supporti in questo, è possibile rappresentarli perché ci sono. Cioè questi elementi, questi sensori distribuiti sul territorio di fatto sono un patrimonio incredibile, per cui anche solo il fatto di poter avere accesso e poter sempre più rendere collaborativa il trasferimento, l'utilizzo, offrono veramente un potenziale enorme. Il dato lì c'è. La logica che c'era stata chiesta in questa fase qui era quella più a livello territoriale, che aveva anche l'obiettivo di incominciare a sovrapporre le diverse tipologie energetiche, per vedere se c'erano dei distretti particolari, per cui dalle biomasse al mini idro, al mini eolico, al solare, eccetera. Allora da lì è venuto fuori una serie di elaborazioni, per cui il nostro cluster di riferimento era il territorio comunale, per capirci. Però sicuramente, più poi dopo uno affronta il tema industriale, produttivo, eccetera, più il dettaglio è necessario, è maggiore, anche perché dopo si crea la morfologia anche solo del costruito, determina una ventosità rispetto a un'altra, corridoi particolari di correnti, eccetera. Non c'è dubbio. Voi. Benissimo, ora ringraziamo il dottor Serravalli. Adesso abbiamo il dottor Cherubini, della Società Terra Area di Milano, che ci presenterà Biopol, un sistema di supporto alle decisioni WebGIS per la localizzazione ottimale degli impianti a biomassa. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Oggi presenterò l'applicativo online Biopol, appunto uno strumento di supporto alle decisioni per la localizzazione ottimale di impianti a biomassa atti a servire una piccola rete di teleriscaldamento. Non ho portato slide perché vi presenterò direttamente il software online. Dopo essersi iscritti verrà fornita username e password, grazie alle quali si può accedere al sistema. Questo software nasce da un progetto europeo, Intelligent Energy, e ha guardato precisamente quattro regioni in Europa. Il Nord Irlanda, la Slovenia, la Vallonia in Belgio e la regione Lombardia. Oggi, come caso studio, guardiamo la regione Lombardia. Una volta cliccato sulla mappa, sulla regione di interesse, si apre la home page vera e propria di Biopol, in cui è possibile effettuare quattro principali operazioni. La prima è la visualizzazione della quantità di biomassa in termini sia di massa, quindi in tonnellate, sia di energia, quindi in kilowattora, che è disponibile sul territorio. Possiamo selezionare, appunto, alla nostra destra le diverse tipologie di biomasse che vogliamo rappresentare. Possiamo prendere sia le singole specie, sia l'intero gruppo, sia per gli impianti a combustione, sia per degli impianti a digestione anaerobica, che chiaramente usano scarti agricoli, scarti industriali, eccetera. Zoomando su una regione, possiamo visualizzare col tool apposito, in una cella di un chilometro per un chilometro, la quantità di massa e di massa presente per ogni categoria di biomassa presente in quella cella. La seconda operazione è quella di visualizzare la domanda di calore del territorio. Quest'operazione può essere fatta sempre selezionando alla nostra destra i diversi settori che richiedono questo calore, che sono sidenziale, industriale e terziario. Carichiamone per esempio solo due, così non è troppo pesante. Possiamo anche in questo caso, con l'apposito tool, visualizzare la quantità di calore in megawattora richiesta dal territorio. In questo caso, la domanda di calore è visualizzata su una griglia a 20 lato di un chilometro, cioè su una griglia formata da celle a 20 gradi lato di un chilometro. L'ultima operazione è quella di visualizzare i risultati dell'intersezione fra queste due informazioni, ovvero la vocazione del territorio ad ospitare impianti a biomassa. Sono stati considerati cinque tipologie di impianti, due a combustione e tre a digestione anaerobica. Cliccando su ciascun impianto possiamo vedere sempre su una griglia a 20 lato 500 metri, possiamo visualizzare la vocazione di un'area ad ospitare impianti. Cliccando su ogni singola cella possiamo visualizzare un indice di sostenibilità di ogni singolo impianto. Cos'è questo indice? Questo indice è l'aggregazione di tre sotto indici che sono qui elencati, che sono la popolazione coinvolta nell'area di costruzione dell'impianto, il rapporto fra offerta e domanda che ci indica in qualche modo il surplus di offerta che abbiamo di biomassa sul territorio, quindi più è alto più la sicurezza dell'approvvigionamento è migliore. L'ultimo indice è la distanza fra l'impianto e la zona di raccolta della biomassa. L'aggregazione tramite dei pesi di questi tre indici porta all'indice complessivo di sostenibilità, che va da 0 a 1, chiaramente 0 è il caso a minor appetibilità e 1 il caso a maggior appetibilità. Biopol è stato pensato principalmente per due tipologie di utenti. Il primo è un pianificatore a scala vasta, quindi pianificatore a scala regionale, in cui c'è infatti, grazie a questo software, e gli può vedere anche, grazie solamente tramite a dei colori, se non vuole scendere più a scala di dettaglio, la vocazione di un'area o di una zona del territorio all'installazione di impianti. Questo è anche facilitato da dei tool appositi, in particolare si può cercare il massimo valore dell'indice di sostenibilità presente sul territorio, e quindi da qui dare, magari nelle linee guida pianificatorie e programmatiche, degli indirizzi sulla pianificazione energetica. E' possibile utilizzare questo strumento anche a scala locale, diciamo quindi più a scala comunale, infatti un pianificatore comunale può zoomare sull'area di interesse, e in questo modo può vedere sul territorio, anche cambiando la mappa che ha come sfondo, si può appunto capire la localizzazione abbastanza in dettaglio, seppure di massima, dell'impianto. La quantità di biomassa, in questo caso siamo in un territorio montano, quindi andrà a localizzarsi principalmente sui pendii delle vallate, la biomassa, e la domanda di calore che si svilupperà intorno ai centri urbani, e quindi nel fondo valle. Oltre all'indice di sostenibilità, Biopol fornisce anche una stima della potenza massima installabile in ciascuna cella. Sempre selezionando uno dei cinque impianti considerati, possiamo, con il tool di informazione, cliccare su una cella e visualizzare la potenza in megawatt teoricamente installabile in quella cella. È inoltre possibile visualizzare degli esempi virtuosi di impianti già installati, con potenza e caratteristiche tecniche simili a quelli selezionati. In ultimo, è possibile effettuare una simulazione personalizzata di impianti infatti l'utente può scegliere la tipologia di impianto da considerare, la tipologia di biomassa che vuole appunto sfruttare in questo impianto, può scegliere se questo impianto verrà utilizzato solo per generazione di calore o anche per generazione di energia elettrica, può selezionare la percentuale di domanda e di offerta da voler soddisfare o comunque utilizzare, e in ultimo può dare dei pesi diversi o addirittura annullare agli indicatori, agli tre indicatori che abbiamo visto in precedenza. Complimenti. Come al solito faccio la domanda, aspettiamo il microfono al dottor Borfecchia dell'Enea. Sentiamo. Una domanda, complimenti per il sistema che sembra ben strutturato e progettato, però avevo una questione, la questione è l'accesso comunque ai dati che il sistema utilizza, avere delle mappe così definite e ben distribuite di disponibilità di biomassa e cose di questo tipo, l'altra questione che mi veniva in mente, la biomassa è legata anche a aspetti stagionali, climatici, di questa cosa se ne è tenuto conto, in qualche modo esistono anche dei tool previsionali in funzione di questi fattori? Allora, giustamente la questione dei dati come nella presentazione precedente è chiaramente fondamentale, per quanto riguarda i dati della offerta di biomassa, è stata fatta sia un'analisi cartografica, ma anche una fitta analisi specifica in loco, diciamo, grazie a dei partner locali, che hanno anche fatto, diciamo, delle campagne di rilevamento di questa biomassa. Inoltre è stato considerato chiaramente lo sfruttamento in maniera sostenibile della biomassa, cioè non è che di sbosco per produrre energia, ma da operazioni di manutenzione, magari dai boschi, da scarti di segherie, o comunque senza intaccare gli ecosistemi. Per quanto riguarda l'altra domanda, la stagionalità non è stata considerata in quanto si è considerato l'arco temporale di un anno, quindi la quantità di offerta e domanda è stata stimata nell'arco dell'intero anno. Quindi si perde la stagionalità, ma perché lo scopo di questo strumento, come nella presentazione precedente, è, diciamo, di fornire uno strumento gestionale pianificatorio e non specialistico di progettazione, che chiaramente per costruire un pianto vanno fatte tutte le analisi del caso. Chiaramente questo è uno strumento utile che dà l'idea dell'affettibilità generale di un territorio. Bene, c'è un'altra domanda. Tieni sulla mano così arriva il microfono. Buonasera, Claudio Sifani, Isti, CNR. Una curiosità, in merito soprattutto alla parte previsionale dello strumento, che è l'ultimo step che ha fatto vedere. Della simulazione, diciamo. Esatto, quella simulazione personalizzata, diciamo. Esatto. È previsto anche la possibilità di inserire un'area di interesse? Cioè, mi spiego, siccome ho notato, mi sembra di capire che è principalmente rivolto all'ambito pianificatorio. Sì. In termini però di programmazione. Esatto. E in termini di disegno e di territorio, cioè di previsione di nuove trasformazioni con una domanda di calore, per intenderci, no? Capire quanto può impattare quella possibile domanda di calore in termini di consumo, di biomasse e quant'altro. Ok. O è attualmente soltanto possibile a scala regionale? Allora, per ora è a scala, diciamo, a vasta scala. La simulazione viene fatta sull'intera area. Poi, chiaramente, se a uno interessa il comune particolare, zooma e vede la situazione in questione. Diciamo, sviluppi futuri anche in base ai PGT, alle previsioni di piano, possono essere tenuti conto in questa schermata. in quanto in questa schermata noi teniamo conto delle percentuali di domanda e di offerta da soddisfare o da consumare. Le simulazioni precedenti che avete visto, in cui avete visto i risultati, sono state ottenute utilizzando questi valori, quindi dei valori molto cautelativi. Infatti, non è stata considerata di soddisfare tutta la domanda e di utilizzare tutta la biomassa disponibile, ma è stato pensato di utilizzare il 50% della domanda di calore dovuta a abitazioni, il 30% industriale e il 80% del terziario. e così anche per la quantità di biomassa, infatti è stata utilizzata solo il 75% della biomassa totale. Quindi si potrebbe tener conto giocando con questi indici, con queste percentuali. Salve, Stefano Pili dall'Università di Cagliari. Forse mi sono perso un momento, quindi faccio una domanda. Ma la parte di domanda di calore, come è stata stimata, divisa nei tre settori? È stata stimata grazie a anche dati disponibili da enti preposti. Nel caso di Regione Lombardia c'è a disposizione, appunto come dicevo prima, un sistema informativo regionale che è Sirena, che mette a disposizione a livello comunale i dati di domanda suddiviso per terziario, residenziale e industriale. Quindi in quel caso c'era a disposizione un dato di domanda comunale che poi è stato disaggregato sulle celle che vedo date 500x500 in base all'uso del suolo e alla presenza di edifici o meno. Nel caso delle altre tre regioni europee, i partner nazionali che hanno partecipato a questo progetto hanno fornito, accedendo a banche dati differenti in funzione della tipologia, diciamo, non so, vi faccio l'esempio della Sdovenia, sono partiti dal catastro, dagli edifici e hanno assegnato dei consumi in kilowattora per metro quadro ad ogni singolo edificio. Perglia, in base all'attività industriale, hanno assegnato un consumo specifico. Quindi in funzione di ciascuna delle quattro regioni si è fatto accesso a diverse banche dati. Noi in Regione Lombardia eravamo fortunati, appunto come diceva il Cermen all'inizio, che abbiamo delle banche dati pubbliche che sono accessibili a chiunque, quindi si è utilizzato quello. Ci sono altre domande? Io ho una considerazione da fare, cioè nel senso che questa biomassa, cioè io la devo raccogliere là dove poi la consumo, perché se devo trasportare la biomassa per 80 km, 100 km da un luogo all'altro, è più quello che consumo di energia che quello che poi recupero. Quindi ovviamente, cioè è ovvio che voi avete tenuto conto della regionalità della cosa. Cioè la raccolta va fatta entro un raggio di 15 km? 10 km, non saprei. Sì, è stato fatto proprio un ragionamento così. Cioè in base alla tipologia di biomassa è stato dato un raggio di raccolta, diciamo, massimo di 30 km per gli scarti forestali. Per gli scarti derivanti da aziende zootecniche, quindi liquidi, si è comunque utilizzato un raggio di 5 km. Ecco, sì, sì, certo. Perché, insomma, altrimenti... Bene, io ringrazio, se non ci sono altre considerazioni, ringrazio e passo alla prossima... intervento che è tenuto dal dottor Pili, dottore di ricerca dell'Università di Cagliari, che ci parlerà delle tecniche di analisi per la valutazione delle strategie di recupero urbano, il caso della periferia di Quarto Sant'Elena. Grazie. Questo è l'inizio di un lavoro di ricerca che si basa sulle ricerche effettuate durante il PICD di Stefano Pili, che sono io, e della dottoressa Valeria Sayu. Queste due ricerche si basavano, da una parte, sulla definizione della qualità, della sostenibilità dell'ambiente urbano, e dall'altra parte sulla definizione di un tool per il calcolo della prestazione energetica degli edifici basato sulla 11.300. Un cenno sul concetto di processo di riqualificazione sostenibile degli edifici che tiene da conto una serie di aspetti, così come ci suggerisce anche la Comunità Europea con i recenti programmi per il 2020, è come suggerito da una serie di protocolli di valutazione della sostenibilità ambientale, sociale, economica, dell'insediamento alla scala di partiere, alla scala dell'edificio e anche di quartiere. L'obiettivo della ricerca che ci siamo posti è quello di cercare di strutturare un approccio che vada alla scala urbana e che utilizzi dati disponibili o facilmente ottenibili sul territorio. L'ambito di studio è l'area di Quarto Sant'Erena, Quarto Sant'Erena è questo in rosso, questo qui è Cagliari, per chi non conoscesse in Sardegna. Come potete vedere, il tessuto di Quarto Sant'Erena si estende lungo la costa, questa zona tra questo lago e lo stagno, e si possono individuare una serie di tessuti fortemente riconoscibili nella periferia a causa delle lottizzazioni, essenzialmente dell'espansione. I dati disponibili perciò erano quelli dei piani di lottizzazione depositati nei comuni, presso il comune. Utilizzando questi dati si è cercato di effettuare una valutazione alla scala urbana e una valutazione alla scala edilizia per quanto riguarda la sostenibilità dell'insediamento. Per la valutazione alla scala urbana si cercheranno degli indicatori per valutare la qualità dello spazio pubblico, inteso come disponibilità di verde e di servizi, il grado di connessione territoriale delle varie lottizzazioni, diciamo, con le principali assi viari, e la mixità sociale dei quartieri è ritenuta un elemento fondamentale per la sostenibilità e la qualità e la vivibilità dei luoghi e dal punto di vista della scala edilizia in questo momento ci si è valutata la valutazione dell'efficienza energetica degli edifici. Il primo aspetto, appunto lo spazio pubblico e la connessione territoriale è stata valutata a questo punto della ricerca in maniera qualitativa, cioè utilizzando dei sopralluoghi per definire, è un'analisi cartografica, per definire la qualità dei luoghi, la disponibilità del verde pubblico e la vicinanza alle principali strade di connessione. In futuro si svilupperanno dei tool più automatici per questo tipo di valutazione. Un altro aspetto fondamentale è che è riconoscibile nel tessuto, sono riconoscibili, come potete vedere, degli insediamenti con un preciso disegno. Questi disegni hanno una loro autonomia, sia dal punto di vista del tipo logico degli edifici e dei materiali utilizzati per la loro costruzione, perché fanno parte a un anno preciso di costruzione e a una distribuzione spaziale specifica degli spazi. Per esempio, qui abbiamo degli edifici a torre, qui possiamo vedere un tipo di insediamento più diffuso, la classica villetta a schiera o isolata, e poi qui abbiamo degli edifici in linea. Questi aspetti caratterizzano sia il tipo di popolazione che vive in questi quartieri, che naturalmente le prestazioni energetiche degli edifici, come vedremo in seguito. Dal punto di vista della popolazione abbiamo utilizzato il database ISTAT, disaggregato per sezione censuaria, nel quale abbiamo notato che ogni sezione censuaria in questa area corrisponde più o meno con la lottizzazione, quindi abbiamo dei dati abbastanza precisi spazialmente rispetto all'oggetto dello studio. in questo caso possiamo notare come la disponibilità di spazi, la qualità abitativa degli edifici essenzialmente, delle abitazioni, abbia determinato un certo tipo di popolazione che vi è insediata. Non entro adesso per brevità nel commento di ognuno di questi indicatori, però il profilo degli abitanti di ogni tipo di lottizzazione è fortemente riconoscibile. Per valutare la scala edilizia, la sensibilità della scala edilizia, abbiamo cercato un indicatore abbastanza sintetico per definire la qualità dell'involucro. Non siamo entrati nella definizione degli impianti perché per avere dei dati riguardo agli impianti è necessario un'attività di rilievo molto più approfondita, quindi utilizzando semplicemente la cartografia vettoriale a disposizione essenzialmente e un tool di geoprocessing da noi sviluppato, siamo stati in grado di calcolare il coefficiente globale di scala biotermico per trasmissione in base alla 11.300. La formula è questa che potete vedere quassù, essenzialmente è la moltiplicazione delle superfici disperdenti dell'edificio, facciate, coperture, base al suolo, finestre, per le rispettive trasmittanze. Le trasmittanze sono note perché noi abbiamo i progetti approvati in comune per quanto riguarda i piani di dotizzazione e le superfici disperdenti sono state calcolate con un tool GIS. Il tool GIS funziona essenzialmente in tre fasi. La prima fase definisce i punti esterni agli edifici utilizzando un semplice buffer e poi l'estrazione del punto medio. Poi le superfici esterne vengono definite utilizzando delle query spaziali basate sull'altezza degli edifici combinando questi punti esterni e il poligono dell'edificio. Qui potete vedere riassunti quindi i dati di ingresso del calcolo. Le geometrie degli edifici sono date dai progetti depositati e dalle cartografie vettoriali essenzialmente. La superficie finestrata è sempre stata desunta dai progetti depositati. La tezione degli imprenditori in piano è lo stesso dei progetti depositati. Materiali sempre definiti per tipologia e progetti. Il numero di piani poiché non sempre il progetto depositato abbiamo notato che non sempre il progetto depositato aveva una distribuzione dei volumi uguale a quella che in realtà era presente perché spesso era solo parziale era solo definita la tipologia e non la completa distribuzione dei volumi sulla mappa al che abbiamo integrato questi dati progettuali con l'osservazione tramite uno strumento web come Bing's Map che nel caso di Cagliari fornisce anche la vista tridimensionale. in questo caso possiamo già ottenere delle informazioni per il progetto della riqualificazione energetica come per esempio potete vedere come le dispersioni termiche si distribuiscono in maniera diversa a seconda della tipologia di rizia tra i muri verso i vani scala che non sono riscaldati nel caso dei climi temperati come quelli di Cagliari generalmente le coperture il basamento e le finestre abbiamo anche valutato quanto si discostasse ogni tipologia di rizia rispetto a una ipotizzando che l'involucro avesse la trasmittanza prevista attualmente per la costruzione di un edificio quella prevista dalla normativa attuale vedendo come alcune tipologie si discontassero maggiormente e altre e altre meno. Questo naturalmente è solo una fase della ricerca iniziale che mostra come dati di natura diversa possono essere letti assieme un po' come si fa per gli indicatori di qualità e di sostenibilità dei quartieri proposti anche a livello europeo. Abbiamo idea che questo approccio per layer possa essere sviluppato anche per altri tematismi tra i quali anche la possibilità e l'utilizzo diciamo la potenzialità d'uso delle diverse fonti energetiche rinnovabili un po' come è stato proposto a livello regionale diciamo precedentemente oppure temi di tutela del paesaggio di integrazione paesaggistica la creazione di layer georeferenziati in un ambito assolutamente di interoperabilità di dati permette di aumentare la conoscenza che può essere fornita al pianificatore lo studio per tipologia edilizia permette poi la facile generalizzazione in ambito urbano e quindi ottenere una definizione piuttosto dettagliata del fabbisogno termico come si parlava precedentemente si parla per ora di fabbisogno netto e non di EPI o di EPGL in questo caso perché non abbiamo gli impianti ovviamente e può essere utilizzato anche per valutare scenari alternativi cambiando per esempio ipotizzando politiche di facilitazione per la sostituzione degli infissi o politiche di integrazione sociale o quello che può essere ipotizzato nell'ambito della pianificazione sostenibilità in ambito urbano è comunque l'inizio della ricerca che si sta indirizzando in queste direzioni grazie ringraziamo qualcuno ha delle domande da fare? la stima delle caratteristiche energetiche di ogni singolo edificio che lei ha desunto dalla struttura essenzialmente e dalla tipologia di struttura del singolo edificio non tiene conto di eventuali interventi fatti di risparmio energetico per cui adesso esistono anche delle normative incentivanti che evidentemente non si evincono dall'esterno ma di cui comunque ci dovrebbe essere traccia tra diciamo la documentazione fornita per i lavori all'amministrazione pubblica in qualche modo di cui se ne dovrebbe tener conto perché molti di questi interventi ovviamente ottimizzano in maniera significativa la risposta energetica di ogni singolo edificio allora su questo aspetto quando è stata costruita quando si è stato ci siamo addentrati nei database diciamo tra i faldoni della pubblica amministrazione abbiamo avuto la possibilità di avere alcune di queste pratiche di poter visionare alcune di queste pratiche però il diciamo il limite di questo di questo aspetto è che non è facilmente cioè l'amministrazione in sé non ha attualmente almeno parto usant'elena la possibilità di legare in maniera in maniera automatica queste due informazioni nel senso che nell'archivio diciamo storico noi abbiamo ottenuto informazioni abbiamo circa i piani di lottizzazione quindi le strutture di base che sono state utilizzate in queste lottizzazioni e poi a edilizia privata che è quello che porta avanti la pratica di tutti i giorni si sono potuti ottenere alcune informazioni delle ultime pratiche presentate da quando noi abbiamo iniziato a fare questo studio delle vecchie non è stato semplice ottenere informazioni esistono però dei database per esempio quello Enea del 55% dove ci sono informazioni circa i consumi una sorta di certificazione energetica completamente inserita e integrando quei dati che a questo punto sono noti per unità abitativa e non solo per edificio a questi dati per edificio si può cercare di avere un'informazione che comunque sarà sempre un po' mosaicata all'interno dell'edificio perché non tutti portano avanti questa la riqualificazione energetica essenzialmente un altro aspetto che posso dire è che in effetti su questi edifici qua in quasi tutti c'è un impianto centralizzato però anche in questo caso non tutte le unità abitative sono collegate all'impianto centralizzato o lo utilizzano a volte non è in funzione altre volte soltanto alcuni sono collegati all'impianto centralizzato gli altri si usa essenzialmente la pompa di calore come estate e inverno essenzialmente stesso impianto per l'estate e l'inverno però avere dei dati dettagliati su questi aspetti ancora non siamo riusciti a ottenerli si sta pensando anche a utilizzare degli strumenti web di partecipazione in qualche modo per ottenere questo tipo di dati in maniera volontaria da parte degli utenti quindi in questo caso abbiamo presentato semplicemente i dati certi che abbiamo nel senso come documentazione già presente all'interno dell'informazione comunale che abbiamo avuto a disposizione questo è la scelta io ho una considerazione da fare a questo punto che apprezzo molto invece questo lavoro di valorizzazione di dati esistenti cioè sia nei lavori che abbiamo visto prima nel lavoro che abbiamo visto adesso c'è tutto questo come dire utilizzo di informazione esistente che trovo una cosa molto apprezzabile anche se sono comunque una base di partenza poi ovviamente come tutti voi avete detto c'è molto da fare da affinare da capire appunto se la realtà che stiamo rappresentando è proprio quella vera o è quella che noi ci stiamo immaginando quindi diciamo volevo fare questa considerazione di apprezzamento detto questo passiamo alla prossima grazie comunque al dottor Pili passiamo alla prossima intervento che è tenuto appunto dal dottor Borfecchia dell'Enea che ci parlerà delle tecniche di telerilevamento integrate e GIS a supporto della stima del potenziale fotovoltaico dei tetti nel comune di Avellino Buonasera grazie della presentazione al chairman alla chairman e questo lavoro prende la spunto un po' da una serie di interazioni che abbiamo avuto con colleghi che si occupano di fotovoltaico e abbiamo cercato un po' di mettere a disposizione di questi colleghi le nostre competenze nel settore dei GIS e delle tecniche di telerilevamento ora adesso vorrei uscire da questa se il primo problema è 20 ecco allora diciamo questo è un po' l'argomento di questa di questa mia di questo nostro lavoro che in realtà per cui presentiamo un po' di risultati preliminari che sono suscettibili poi di miglioramento come dirò poi nelle conclusioni ora andiamo avanti ora fotovoltaico qualche elemento di generalità sul fotovoltaico il fotovoltaico come sappiamo praticamente è un modo di produrre in modo alternativo direttamente dal sole in modo pulito e per cui ci sono state tutta una serie di incentivazioni a livello nazionale per riuscire a recuperare un po' il ritardo accumulato nei confronti anche di altre nazioni meno favorite di noi a partire dal 2005 in effetti ci sono stati degli incentivi pubblici per l'ampliamento del fotovoltaico e come vediamo poi attualmente c'è stato sempre un aumento a partire dal 2005 aumento che è stato normato da vari atti legislativi denominati conto energetico tant'è che attualmente siamo una potenza installata dell'ordine di 12 gigawatt di picco col quarto conto energetico terminato all'inizio di quest'anno e con questa distribuzione per regioni 12 gigawatt di picco installato praticamente ci avvicinano molto alla Germania che ha qualcosa dell'ordine di 17 gigawatt elettrici e grossomodo questa energia prodotta equivale a quella di due centrali nucleari della vecchia generazione tanto per non dimenticare il passato impegno nucleare dell'Enea ora la cosa interessante da vedere con il susseguirsi dei 4-5 conti energetici è che praticamente c'è stato un aumento anche della potenza installata e del numero di impianti numero di impianti che attualmente ha superato i 300.000 impianti l'altra cosa che è da vedere con questo ultimo grafico è che con il cadenziamento dei 4 conti energia la cosa interessante è che è aumentata la potenza media per impianto potenza media per impianto fotovoltaico significa essenzialmente aumentare la superficie disponibile di fotovoltaico con il discorso che aumentando la superficie del fotovoltaico tipicamente grazie agli incentivi si è andato a installare molta parte degli impianti fotovoltaico su terreni invece che su coperture di edifici quindi andando a installare questo fotovoltaico su terreni si è entrato in conflitto con usi alternativi del terreno tipicamente quegli agricoli o naturalistici che in un prossimo futuro potrebbero essere strategici a livello nazionale quindi il legislatore ha preso atto di questi aspetti tant'è che negli ultimi conti energetici il quarto e anche il quinto ha teso a disincentivare l'installazione di fotovoltaico su terreni per privilegiare quella su tetti su coperture quindi coperture di infrastrutture edifici sono superficie già utilizzate e quindi il fotovoltaico va a incidere in questo modo su una superficie meno utilizzata e meno suscettibile di usi strategici in un prossimo futuro tant'è che nelle ultime conti energetici addirittura c'è stato l'abbinamento dell'installazione del fotovoltaico con la problematica di rimozione dell'amianto che è un'altra problematica molto rilevante ci sono degli incentivi aumentati addirittura per l'abbinamento dell'installazione fotovoltaica con la rimozione dell'amianto ora fotovoltaico il fotovoltaico è come ben noto una tecnologia pulita pulita fino a un certo punto però diciamo che nella sua vita non rilascia essenzialmente gas climalteranti come gran parte dei combustibili fossili salvo poi il problema dello smaltimento a fine vita per il fotovoltaico quindi è stato molto diffuso a livello europeo addirittura a livello europeo praticamente ci sono addirittura delle si è creato un sito dedicato al supporto del fotovoltaico c'è un sito PVGIS che sfrutta anche la tecnologia GIS per fornire a tutte le utenze del fotovoltaico una serie di servizi servizi che come sappiamo sono servizi che attengono a problema per esempio di tutti la serie di fattori che influenza il fotovoltaico prima fra tutti che cos'è il fotovoltaico la superficie fotovoltaica dipende dall'irradianza solare e dal suo assetto ovviamente più la superficie è perpendicolare ai radici solari più aumenta la potenza quindi c'è un problema di assetto essenzialmente dovuto anche all'altezza del sole variabili durante l'anno e durante il giorno c'è un problema di torbidità atmosferica ovviamente laddove l'atmosfera è più torbida ovviamente aumenta la componente diffusa diminuisce la componente diretta con un decremento netto della disponibilità e della potenza prodotta ora abbiamo detto che sono privilegiati i tetti in ambiente urbano il problema dell'ambiente urbano è che sebbene i tetti sono più disponibili perché c'è una concentrazione di abitazione c'è un problema che l'ambiente urbano è molto eterogeneo e questa è una cosa ben nota ai telerilevatori dal punto di vista della riflettanza dal punto di vista delle diverse tipologie di superfici riflettenti delle diverse strutture 3D molto rilevanti dal punto di vista della protrusione verso il cielo con schermatura reciproca quindi da questo punto di vista noi ci siamo focalizzati sul comune di Avellino perché avevamo a disposizione una banca dati LIDAR sull'intero comune di Avellino questo ci ha permesso di mettere a punto una serie di procedure per tener conti in maniera molto precisa di tutte queste serie di fattori in ambiente urbano allora sfruttando quello disponibile su questo sito GIS qui quello che noi vediamo vediamo per il sito di Avellino la differenza tra in questa area qui tra componente diretta e diffusa in un determinato giorno diciamo rispetto diciamo al cielo reale cielo reale che cosa è questo cielo reale in questo sito c'è a disposizione praticamente una serie storica della torbidità atmosferica sulla base di mappe medie mensili con una risoluzione di un chilometro su tutta Europa per cui ad ogni sito è disponibile una mappa mensile che può essere presa a riferimento per stimare in quel mese qual è la torbidità tipica di quel mese ora in ambiente fotovoltaico la torbidità atmosferica si misura con questo parametro che è la torbidità di Link che cosa è la torbidità di Link la torbidità di Link è il rapporto tra la torbidità attuale dell'atmosfera e quella in situazione di cielo sereno completamente sereno clay sky in cui praticamente c'è solo l'effetto molecolare ora come vedete la componente diffusa è anche rilevante rispetto a quella diretta perché ovviamente ha una variazione mensile mensile che ovviamente è il rapporto diffuso diretto è minore nei mesi in cui il cielo è più sgombro da nuvole quindi giugno-luglio è maggiore nei mesi diciamo autunnali-invernali altre diciamo parametri che possono essere derivati dal da questo sito è praticamente come deve essere orientata una superficie diciamo fotovoltaica per fornire il massimo dell'efficienza ovviamente con l'andare dell'anno e del giorno l'altezza solare varia e quindi per mantenere l'efficienza della superficie fotovoltaica bisognerebbe avere un meccanismo che la mantenga continuamente perpendicolare ai raggi del sole vedete in questo grafico di sinistra noi abbiamo praticamente l'inclinazione che è una superficie ipotetica rivolta al sud devi avere per mantenere il massimo dell'efficienza ovviamente in giugno dove il sole dell'altezza è massima l'inclinazione per essere perpendicolare al sole deve essere minima questo è un'uscita dei tool disponibili su quel sito per una stima sempre sul comune di Avellino addirittura di potenza prodotta annuale per diciamo il sito di Avellino ipotizzando una potenza prodotta soltanto dalle aree urbane derivate con una semplice classificazione diciamo ora per la stima di questo prodotto cosa si è utilizzato si è utilizzato un cosiddetto DTM cioè l'altimetria dell'area di interesse l'altimetria essenzialmente naturale però il grosso problema è che per l'installazione del fotovoltaico sul tetto magari quello architettono integrato ovviamente bisogna tener conto non dell'altimetria naturale con la sua inclinazione e il suo orientamento ma della inclinazione e orientamento della falda del tetto ora in questo diciamo quindi in realtà questo è un dato fortemente falsato per la stima della potenziale fotovoltaico in aere urbane quindi allora per fare questo cosa abbiamo utilizzato abbiamo utilizzato un dato LIDAR sull'intero comune di Avellino un dato LIDAR che ovviamente ci permette di ottenere con tecniche ormai ben consolidate sia un DTM sia un DSM un DTM che in pratica rispecchia l'andamento naturale dell'area di interesse delle altimetrie naturali un DSM che rispecchia l'andamento comprensivo sia degli oggetti naturali sia degli oggetti erotropici inclusi l'edificio ora vediamo che con le tecniche di elaborazione LIDAR si riescono a ottenere in modo speditivo dopo aver personalizzato ovviamente i parametri di gestione sull'area di interesse anche delle cartografie vettoriali dell'area quindi con praticamente le planimetrie di ogni singolo edificio presente la vegetazione con le proprie caratteristiche poi a livello si riescono ad avere a ottenere anche dei dati tridimensionali dell'intera area identificando i tetti e non solo i tetti questo è un po' un riassuntivo del dato LIDAR tutto il volo LIDAR è stato effettuato sull'intero comune di Avellino restituito in 48 tavolette questo è diciamo l'intero comune il DSM dell'intero comune ora questo è già un calcolo di diretto interesse del fotovoltaico ora sull'intero comune sfruttando il DSM è stato praticamente calcolato la come dire la potenza l'energia prodotta i kilowattori prodotti in due mesi di importanza fondamentale per l'irradiamento del comune è stato calcolato l'irradianza che ovviamente poi diciamo è intercettata dalle superfici fotovoltaiche intercettata dalle superfici del fotovoltaico e con un certo rendimento da questa irradianza ovviamente si produce elettricità la cosa interessante da vedere da qui è che in realtà qui abbiamo calcolato le due componenti cioè il contributo sia della componente diretta solare integrata sui due mesi significativi dell'anno sia la componente diffusa sia la componente diretta che la componente diffusa da sottolineare che sia nella componente diretta che nella componente diffusa voi vedete che in corrispondenza di ogni struttura tridimensionale esistono delle striature nere striature nere che sono dovute alla mutua schermatura dalle ombre che in realtà sono ombre ovviamente che sono ombre variabili sia a livello giornaliero che a livello dell'intero mese d'accordo e ovviamente questa disuniformità in presenza di strutture tridimensionali accentuate è maggiore per la componente diretta e minore ovviamente per la componente diffusa per questa componente diffusa sono state usate delle modellizzazioni particolari che in qualche modo tengono conto anche delle anisotropie locali ora l'altra cosa interessante da sottolineare è che poi sfruttando la capacità del DSM di fornire cartografia a livello di ogni singolo edificio questa componente diretta e diffusa può essere estratta per ogni singolo edificio quindi in questo modo alimentare un database su base vettoriale che fa riferimento ad ogni singolo edificio proprio in termini di kilowattore al metro quadro prodotto ora l'altra cosa da rilevare che abbiamo avuto modo di mettere in evidenza con questo lavoro è che in realtà questo questo aspetto va particolarizzato per ogni singola copertura se voi immaginate le coperture con le due falde ovviamente la come dire la potenzialità fotovoltaica di una falda è nettamente diversa dall'altra dato in realtà le diverse orientamenti e esposizioni della singola falda ora la cosa che abbiamo messo in evidenza qua è che utilizzando anche dei software commerciali le restituzioni degli edifici dal dato leader può essere articolata a livello di ogni singola falda di tetto quindi in realtà noi diciamo adesso stiamo strutturando la cosa per ottenere una banca dati con metodologie semi-automatici per cui per ogni edificio noi avremo la situazione di ogni singola falda con l'energia prodotta o in maniera diversificata per singola falda ora qui in questa in quest'area voi vedete che in realtà dal dato leader con poche elaborazioni si riescono a estrarre le singole falde di edificio ora l'altra cosa interessante da mettere in evidenza è che praticamente oltre alla componente diretta e alla componente diffusa per il fotovoltaico c'è un'ulteriore componente che sebbene minore delle altre due può essere significativa in un ambiente urbano oltre alla radianza diretta del sole alla radianza diffusa dall'emiciclo atmosfera d'atmosfera intorno alla superficie fotovoltaica c'è anche una componente che deriva dall'albedo dalla riflessione sugli edifici sugli edifici circostanti e quindi questa componente l'abbiamo calcolata abbiamo messo a punto la procedura per calcolarla e praticamente l'abbiamo restituita su una subarea dell'area di interesse in questa subarea abbiamo praticamente restituito le componenti diciamo l'irradianza totale diciamo articolata in componente diffusa diretta e di riflettanza e praticamente da questa leggenda che purtroppo non si vede si vede che in questo particolare caso in questa particolare situazione che si riferisce al giorno a un giorno di luglio del 2012 praticamente abbiamo che la componente diciamo riflessa assomma un terzo di quella diffusa che è anche un contributo rilevante in un calcolo molto più preciso del potenziale fotovoltaico in questo in questo caso abbiamo utilizzato come mappa di albedo dell'intero comune di Roma una mappa di albedo derivata da una ripresa l'ansat secondo un modello è possibile calcolare una mappa di albedo sull'intero range spettrale di interesse utilizzando dei modelli disponibili in letteratura ora questo potrebbe essere ulteriormente raffinato perché questo è relativo alla situazione che diciamo al passaggio l'ansat che è una situazione di primo mattino e quindi non si riesce a tener conto completamente dell'anisotropia dovuto alle strutture tridimensionali in ambiente urbano per questo contiamo di agire utilizzando invece altri sensori diciamo che dispongono di viste multiple dell'ambiente urbano che permettono di inserire le anisotropie dovute a queste che sono insite poi nell'albedo in funzione dello zenith solare ora prospettive praticamente diciamo utilizzando diciamo degli strumenti integrati di tipo GIS e di telerivamento sia attivo che passivo si riescono a supportare in maniera efficace tutta una serie di esigenze del fotovoltaico che vanno dalla mappatura diciamo più diciamo dettagliata della qualità dell'area a livello urbano perché non ho detto prima perché in realtà a livello urbano esistono ancora delle problematiche specifiche di trasparenza e quindi di supportare più adeguatamente questa diffusione del fotovoltaico basata sulle coperture soprattutto in ambiente urbano altra cosa interessante leader innovativi per esempio qui faccio riferimento a un leader che è in sviluppo capace di aumentare di circa un fattore 10 la densità dei punti effettivamente rilevati a terra quindi questo permetterebbe di rilevare molto più dettagliatamente le diciamo gli assetti delle superfici fotovoltaiche potenzialmente utilizzabili in un prossimo futuro è finito io ringrazio il dottor Borfecchia veramente è un vulcano ci ha dato una messa di informazioni veramente in un tempo straordinario e qualcuno vuole fare delle domande? c'è un minimo di discussione mi dispiace siamo in ritardo di 10 minuti prego devo fare una riflessione generale il microfono la riflessione generale è che c'è una regione che in questi giorni è stata un po' da parte per conto suo la vediamo poco importante come la Toscana e quello che è la maggiore presenza energetica in Toscana che sostanzialmente è la geotermia 20% almeno è scomparsa da Asita una domanda è si può in qualche modo capire come perché questo e può essere questo eventualmente rivisto in un altro contesto che cosa può dire qualcuno che è interessato a queste problematiche in termini di energie rinnovabili tipicamente italiane producibili e integrabili sostenibili da contributi di vario tipo io non ne ho sentito più parlare scusate l'introduzione e l'intromissione grazie guardi io ovviamente non sono in grado di poter rispondere a questa domanda quello che le posso dire è così diciamo la mia sensazione cioè il problema di questo sfruttamento di tipo di energia è molto locale è molto locale molto di nicchia molto industriale noi qui siamo dei poveri tecnici scienziati ci possiamo definire scienziati che tentiamo di trovare modi nuovi per diciamo come dire approvvigionarci di questa benedetta energia che tanto ci fa dannare cioè modi nuovi per inquinare di meno consumare di meno per non bruciare più petrolio cioè siamo molto diciamo schillati su quest'altro tipo di problema lì la vedo più una cosa di sfruttamento industriale molto particolare molto locale di quel territorio con tutta la dignità con tutto per carità con tutto il rispetto come posso dire per quel tipo di energia gratis tra virgolette insomma gratis tra virgolette però ecco ripeto diciamo siamo forse su due piani quello che mi viene in mente da dire è che siamo su due piani diversi ecco guardi io purtroppo devo chiudere la sessione perché siamo in un ritardo spaventoso e non è neanche corretto per il collega che viene dopo di me quindi ringrazio tutti e ci vediamo stanno non so speriamo speriamo grazie a tutti grazie a tutti